Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo TG Flash delle ore 18, andiamo con le ultime notizie conoscere il passato per vivere al meglio il presente, costruire un futuro senza errori, violenze e massacri il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria per commemorare le vittime dell'olocausto è stato così designato dalla risoluzione 67 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005 durante la 42esima riunione plenaria, la risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'olocausto, in tutta Italia numerose sono state le manifestazioni, alle 11 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale sono tenute le celebrazioni ufficiali della giornata hanno partecipato la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, la Presidente dell'Unione della Comunità Ebraica Italiana Noemi Di Segni e Sami Modiano, sopravvissuto all'olocausto con anche la presenza del Premier Giuseppe Conte la cerimonia al Palazzo del Quirinale è stata preceduta alle ore 10 e 30 dalla premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso I Giovani Ricordano la Shoah, giunto alla sua 19esima edizione promosso annualmente dal Ministero dell'Istruzione sotto l'altro patronato del Presidente della Repubblica con la collaborazione dell'UCEI. Il concorso è rivolto a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo con l'obiettivo di promuovere l'approfondimento e la riflessione sulla Shoah tra le studentesse e gli studenti La crisi di governo è stata ufficializzata con le dimissioni del Premier Giuseppe Conte salito ieri al Colle e del suo esecutivo e nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio, si darà il via a questa prassi costituzionale, un passaggio cui il Presidente della Repubblica convoca gli ex Presidenti della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato che vengono sentiti anche in caso di scioglimento delle Camere i Presidenti dei gruppi parlamentari, i rappresentanti delle coalizioni di schieramento per quanto concerne il calendario istituzionale si comincia con le alte cariche dello Stato Alle 17 è stata la volta della Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati Alle 18, quindi adesso tocca a Roberto Fico, Presidente della Camera per i gruppi politici invece la razio seguita è dal più piccolo al più grande Alle 10 di questa mattina ha iniziato il gruppo parlamentare per le autonomie del Senato seguito alle 10.30 e alle 12.30 e dalle 16 alle 16.45 dai rappresentanti dei gruppi misti di Palazzo Madama e di Montecitorio tra questi dovrebbero esserci ormai celebri responsabili ieri è stato dato per raggiunto al Senato il numero minimo di 10 senatori per formare il gruppo del nome europeisti, mai e centro democratico nel pomeriggio di giovedì invece si passa ai gruppi più importanti alle 16.45 la volta del gruppo della Camera di Liberi è uguale alle 16.45 ma soprattutto di uno dei momenti più attesi per quello che potranno dire la propria, cioè di Matteo Renzi alle 17.30 infatti Mattarella riceverà la delegazione di Camera e Senato di Italia Viva la giornata si chiude alle ore 18.30 con l'incontro con i gruppi parlamentari del Partito Democratico dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione in mattinata nel pomeriggio si chiude con le consultazioni prima alle 16.00 il centrodestra unito ieri erano circolate notizie su una partecipazione separata dalle singole componenti del fronte conservatore a rappresentazione del distingue della posizione raccontata come combattuta di alcune frange di Forza Italia invece Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega e i parlamentari di Cambiamo vicini a Giovanni Toti insieme all'Udc andranno a comporre un'unica delegazione si chiude con il partito che più voti ha preso alle ultime elezioni del 4 marzo 2018 il Movimento 5 Stelle il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti andremo al Quirinale senza alcun pregiudizio per noi la priorità è aiutare i cittadini ad uscire da questa difficile situazione non soltanto per quanto riguarda il lato economico lo spreco dei soldi dei recovery la perdita del tempo sui vaccini ritardare il rientro degli studenti a scuola e vivere di sussidi sarebbero tutti errori imperdonabili noi non ci siamo buone notizie invece dalla Gran Bretagna perché il vaccino anti-covid-19 di Oxford AstraZeneca realizzato anche con la collaborazione italiana si sta rivelando efficace su tutte le persone di tutte le fasce di età nell'ambito della somministrazione in corso già su milioni di persone nel Regno Unito, primo paese ad autorizzarlo un mese fa lo evidenzia Downing Street citando il professor Patrick Vallance consigliere scientifico capo del governo britannico come scrive l'Ansa Vallance ha illustrato oggi ai ministri dati aggiornati secondo cui questo vaccino come quello Pfizer-BioNTech si mostra sicuro ed efficace con una risposta immunitaria analoga su giovani e anziani intanto il presidente dell'Abruzzo Marsilio ha annunciato in aula nel corso del consiglio regionale che l'istituto zooprofilattico ha evidenziato tre casi di positività al covid-19 con variante brasiliana positiva a una famiglia di Poggio Picenze in provincia di L'Aquila di ritorno dal Brasile casi che sono stati tempestivamente individuati ed isolati allarme all'ospedale Cardarelli di Napoli dove si registra un forte aumento dei casi di contagio tra il personale sanitario ad oggi sono infatti 21 i sanitari medici, infermieri operatori sociosanitari positivi al covid-19 dei contagiati 11 sono in forza al servizio autoparco dell'ospedale Cardarelli nella maggioranza dei casi svolgono la funzione di autisti uno degli 11 contagiati è ricoverato nel reparto di terapia subintensiva per fortuna gli altri riscontrano solo lievi sintomi e sono in isolamento domiciliare altri cinque casi sono stati registrati tra i sanitari in servizio al reparto di medicina d'urgenza caos oggi a Napoli presso il liceo Gian Battista Vico l'occupazione arrivata a pochi giorni dal rientro in aula per le scuole superiori fissato per il primo febbraio a seguito di una pronuncia del TAR della nostra regione Campania come scrive l'ANSA gli studenti prima di occupare si sono sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti rispettando le norme anti-covid-19 durante l'occupazione chi vorrà potrà continuare a seguire le lezioni con la didattica a distanza mentre nel pomeriggio quindi oggi si terranno alcuni dibattiti alcune assemblee che dureranno fino a questa sera per un rientro in sicurezza gli studenti chiedono presidi medico-sanitari all'interno delle scuole e di ricevere tamponi naso-faringei regolarmente per monitorare l'andamento dei contagi all'interno del proprio istituto i ragazzi sottolineano che stanno occupando un istituto vuoto poiché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano ad essere chiuse e denunciano che il rientro in classe così come proposto non garantisce un'effettiva sicurezza ma al contrario non fa altro che mancare di rispetto alla comunità scolastica e delega alle singole amministrazioni scolastiche responsabilità che sarebbero dovute essere statali l'asla di caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento per la giornata di oggi quindi 27 gennaio 150 sono le persone positive al covid-19 a cui si aggiungono 83 persone guarite e 9 deceduti i tamponi processati sono stati 2245 per un tasso di incidenza del 6,6% in aumento rispetto alle 24 ore precedenti in cima per numero di contagi resta Maddaloni con 267 persone attualmente attive eseguite da caserta con 154 e Mondragone con 152 passiamo adesso al calcio e chiudiamo con il Napoli che dopo la pesante sconfitta di Verona si gioca tutto contro Spezia in Coppa Italia e Parma in campionato Gattuso in particolare vede traballare la propria panchina tant'è vero che c'è stato un contatto tra Aurelio De Laurenti e Rafa Benitez così come Mazzarri due grandi ex degli azzurri per quanto riguarda il capitolo mercato ma al cui ormai un giocatore della Fiorentina Llorente ieri ha svolto invece le visite mediche con l'Udinese mentre è tutto fermo in entrata andiamo a dare uno sguardo anche alla gara di domani in Coppa Italia al Diego Armando Maradona contro lo Spezia che ha già battuto gli azzurri in campionato tra i pali dovrebbe giocare ancora Meret in difesa di Lorenzo Maximovic Kulibali e Mario Rui attualmente in vantaggio su Isai a centrocampo ancora Demme e Bakayoko con Lozano Zielischi e Insigni alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere Osimen al rientro dal primo favorito su Petagna Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali un caloroso arrivederci